Un unico territorio per creare insieme l'idea di un nuovo mezzogiorno che costruisce e non si lamenta. E la voce unanime dei due primi cittadini della città di Matera e Bari, Raffaello De Ruggeri e Antonio De Caro, in un momento storico così definito con la stipulazione di un protocollo d'intesa firmato al sesto piano della casa comunale della città dei Sassi che rafforza i rapporti tra due città che molto possono offrire l'una verso l'altra. L'intesa parte già con i buoni propositi dovuti alla collaborazione operativa per i servizi alle imprese e le iniziative nell'ambito della sperimentazione 5G. Ma non solo questo, mobilità, infrastrutture, turismo, cultura e lavoro saranno d'ora in poi punti di forza di due città che si propongono di rilanciare nella metodologia l'intero Sud Italia. Un'occasione per creare un'ulteriore relazione tra l'area metropolitana e la città di Matera nell'ottica di Matera capitale europea della cultura nel 2019. Il protocollo di oggi non era una passerella, sono degli atti concreti che sono già stati avviati. Valorizzeremo i rapporti dal punto di vista logistico attrezzando il porto, l'aeroporto, il casello autostradale, la stazione ferroviaria per migliorare l'accoglienza dei turisti che dovranno raggiungere la città di Matera. Contemporaneamente vogliamo valorizzare le relazioni dal punto di vista dell'innovazione, il 5G. Siamo la città Bari insieme a Matera tra le prime cinque città che sperimentano il 5G. Oggi si crea questa alleanza, non si può vivere nell'isolamento. D'altra parte noi abbiamo la Puglia a otto chilometri e quindi abbiamo necessità di avere questi rapporti. Soprattutto il rapporto con la città di Bari che ha attrezzato il suo territorio come punto di riferimento per i flussi turistici che verranno nella città di Matera nel 2019. Ma accanto a questo problema della mobilità vi sono altri problemi che in questo periodo ci hanno tenuti uniti. E come è stato ricordato il momento del riconoscimento dell'autorevarezza dei luoghi con la scelta del G7 nei nostri territori. E poi la cosa principale è questo riconoscimento di un'area capace di poter essere il fermento, io direi l'ostige, della nuova costruzione della nuova telefonia. Ma il sindaco di Bari De Caro ha voluto mostrare tutto il suo apporto e sostegno la città di Matera portando con sé la squadra di sindaci e delegati comunali dell'area metropolitana di Bari per anche mostrare l'impegno del territorio barese verso la città che sarà capitale europea della cultura per il 2019. E oggi sono arrivato non da solo ma con i sindaci dell'area metropolitana proprio per portare questa novità, la possibilità che abbiamo avuto come città metropolitana finalmente di lavorare insieme, di coprogettare, di copianificare il futuro del nostro territorio e della nostra comunità non più chiusi all'interno del proprio comune. Noi siamo venuti qui con spirito di servizio, siamo qui in maniera servente nei confronti del comune di Matera perché sappiamo che la crescita di Matera nel 2019 sarà un'occasione di sviluppo anche dal punto di vista turistico e quindi dal punto di vista economico per tutto il resto del territorio che abbraccia la città di Matera.